La crisi, la crisi. Che cosa? Carabinieri. Ehi, che sono da parare noi? Che si fa? Ehm, ora me la vedi. Ehm. 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 Signorine. E allora che si fa? Che si fa? Guardi. Smart working. E' un sveit. Infatti. Ehm. Controlla. Confermo. L'ha detto a Conte. Ehm. Cosa? Buon working. A sorte. Grazie. Diamo le ultime due. Dai. In cerca di guai. Donne al telefono. Cantante sei. Brava, brava. Oh. Con la tua ragazza. Ehi, la mia ragazza. Si. E dammo. Ci siamo lasciati. Mi siete lasciati? Le donne tutte uguali sono, guarda. Ho capito. Ma mi doveva sposare? Che sposare? Lei diceva che non davo la giusta importanza al nostro apporto. No. Si. E' pazzesco. Cioè, tu immagini che... Proprio lei poi mi ha lasciato mentre ordinavo la pizza. Veramente. Ehm. E tu come l'hai presa? Prosciutto e funghi. Prosciutto e funghi. E se si gusti meno. E' vero? Con la grana. Con la grana. E' spettacolare. Ben cotta quella. E' fatto bene. E' vero. 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 Senfortunio eh. Prego. Ma... Così. Per... Curiosità. Chi... Chi è il defunto? E' morto. Il padrone del mulino bianco. Mi dispiace un saccottino. Continuo. Cari fratelli, Siamo qui per rendere l'estremo saluto alla nostra sorella Maria, una donna straordinaria, la conoscevamo tutti, una donna cristiana, una donna dedita alla famiglia. Grande generosità, grande cuore con tutti quanti, si dedicava ai figli, al marito, una moglie fantastica. Sì, vai vedi nella bar, è tua madre che sta, ma sta parlando di qualcun altro. Beh? È lei, è lei. Sta lì. Problema? Una conferma, per quel che sta dicendo, mi sono confuso, sarà l'agitazione. Non lo sapevo, a saperlo. Come stai messo con l'inglese? Siamo madrelingua. Madrelingua, allora avrò grandi soddisfazioni dalle tue risposte. Mi devi tradurre, Roberto ha una Ford rossa. Sì? Sì. No, me la devi tradurre. Siamo in inglese. Roberto ha una Ford rossa. Rossa, va bene. Rossa, diciamo, facciamo i colori. Abbiamo fatti. Tipo yellow. Rosso, red. Bravo. Red, rosso e red. Sì. Roberto ha una Ford rossa. Ecco. Radici. Robert. Sì. Red. Sì. La Ford. Eh. Robert. Robert. Red Ford. Robert Red Ford. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Giustamente. Famosissimo. Sì. Una sorpresa. Senti. E geometria? Ah va. Madrelingua, madrelingua. Ah, madrelingua. Benissimo. Allora. Come si trova l'area del triangolo? Sì. Diciamo, innanzitutto, conviene anche ricordarsi dove la si è persa. Ritorna sulla location, accerche la zona. Voglio dire, tanto deve fare che alla fine accerche la trovi. Lo dice pure il proverbio. Tanto cerchi che tanto trovi. Benissimo. Grande soddisfazione, complimenti di Sansemp, marescialo come te. A disposizione. Puoi andare, puoi andare. Scusa anche per insegnarvi. Grazie, grazie. Terremo presente. L'apparanza. A me, a me. L'apparanza. Ehi, l'apparanza. Comandante. Grazie. Vai dolce, comandante. Sì, sì. Semplicissima. Inglese, la parà. Inglese? Le basi. Allora, mi devi tradurre in inglese la parola applaudire. Applaudire. BAT. BAT. BATMAN. 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 Buongiorno. Puoi andare? Allora, la paranza. Complimenti. Siamo, signora. Venite da Moreno dove costa tutto meno. Abbiamo l'Uvodolce. Andiamo signora, vedite da Moreno dove costa tutto meno Andiamo signora, vedite da Moreno dove costa tutto meno E che uva dolce ne abbiamo signora Andiamo, abbiamo le prugne, i limoni, i limoni arancie Sorelle buongiorno, buongiorno Posso offrire qualcosa per il convento? Dei funghi, per coche, pesche, mele, meloni Un po' di melograni ottimi Andiamo, andiamo, andiamo che è tutta roba di lusso E che arancie e che limoni? Banane, cetrioli, zucchine Banane, cetrioli, zucchine, carote Banane, banane, zucchine Banane, zucchine, cetrioli, banane, zucchine, cetrioli Andiamo, forza, sono arrivate le carote, le zucchine, le banane Buongiorno Guarda il maresciallo che faccia che ha Lo so, lo so, sono due giorni che sta così Non lo so che cosa è successo, andiamo a chiedere Andiamo a chiedere, maresciallo Maresciallo, maresciallo Scusi, non ti possiamo vedere con questa faccia Faccia nera, nera proprio Sono due giorni che sta così, che succede? Non è semplice, certe volte ti cade proprio le tegole addosso Capito, questi colleghi, amici che stanno qua La mia ex fidanzata, forse non la conoscete nera anche Mi ha chiesto di riconoscere il figlio E me? Tu me? Come faccio a riconoscerlo se non l'ho mai visto? Boh, c'ha ragione Fa queste richieste a LFM, così Ma da dove ti viene? Ma almeno una fotografia e mi fai vedere questa Pur tre anni fa, capisci Diciamo, a secondo mandamento di tre anni E cambiate qualche cosa Hai ragione Ma così Prendi e riconosci il figlio Ma tu riconosceresti da per cento Hai ragione, hai ragione Almeno una volta ci avrete Andiamo a prendere una prezzetta Che prendi? Papaglia disidratata Papaglia disidratata Proviamo? Proviamo Stasera comunque non cucini tu No? Ti porto a cena Ti porto? E che sono un cane? Ti porto? In modo di dire Cioè nel senso che ti voglio pagare una cena Pagare? Ma hai preso per una escort? Ma mamma, ho aperto un ristorante bio Volevo andarci con te Anche tutta roba che non fa ingrassare, capisci? Perché secondo te sono grassa? Mamma, fa col tu la papaya A cucinare tu stasi Non hai perduto tempo Certo È un bellissimo È un pezzo Dio È un pezzo Sì, ho capito, ho capito io, sto piano, 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 e va bene, piano, e non ho capito, dopo tutto se ti porto la colazione in camera, mi sarebbe bastato un semplice grazie, non tutte queste parole, chi sei, da dove vieni, come ti chiami, chi ti ha fatto entrare, cioè, sei sposato? Ma poi, è sgraziato! Venga fine, venga fine! Che io a quell'ora sarò, steglio già, pronti, partenza, si riaccende la tv, sta per tornare, modù! Il tempo che va non mi basterà, è tardi, tardi, io non so che fare prima, non so che ora è, saranno le tre, ci vorrebbe un giorno di 48 ore e più, se guardi la tv, e ridi anche tu, io sono disposto a correre anche sulla luna, e vieni con me, poi torniamo giù, dobbiamo fare presto, questa è l'ora del voodoo! Ogni mio giorno finisce a metà, la settimana è passata di già, e dopo un mese e un altro anno se ne va, io mi ritrovo sempre qua! Le mani in alto, le mani lì, tu da domani mi farai così, le mani in alto, le mani giù, ora gustatevi il modo! Il tempo che va non mi basterà, è tardi, è tardi, io non so che fare prima, ma non so che ora è, saranno le tre, che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Aaaaaaah! È l'ora del mondo! Ehi!